La globalizzazione può sembrare un fenomeno moderno, ma non lo è. Il commercio globale c'è sempre stato. 5.000 anni fa, nell'età della pietra, si usavano in Europa strumenti fatti con pietre asiatiche. Le monete romane erano fatte d'oro africano. Nel diciassettesimo gli europei andavano pazzi per prodotti fatti d'avorio, finché un giorno il prezzo si moltiplicò senza spiegazione. Anni dopo abbiamo capito che erano stati uccisi così tanti elefanti africani che non c'erano più esemplari adulti, le zanne erano sempre più piccole, ma era già troppo tardi, l'industria dell'avorio era già crollata. Ora, a quei tempi si capisce che le informazioni su la provenienza delle materie prime avrebbe messo tanto tempo a raggiungere i mercati, anzi forse era impossibile sapere di dove venivano le cose, e si penserebbe anche che oggi sarebbe molto più facile capire di dove vengono le cose. E invece non è il caso. Nel 2011 questa fabbrica di General Motors in Louisiana chiuse il 24 di marzo 2011, la data chiave perché chiusero perché mancava un componente, un sensore d'ossigeno che alimenta i motori a benzina senza sensori, niente motori. Il problema è che è chiuso perché il fornitore di più di metà dei sensori d'ossigeno del mondo era in Giappone ed era stato distrutto due settimane prima dallo tsunami del 2011, Tokoku tsunami, e non l'hanno saputo, hanno messo due settimane per scoprire che i componenti non c'erano più, per chiudere la fabbrica aspettando rifornimenti, e questa fabbrica non riaprì mai. L'anno prossimo, il 2012, alcune parti di New York, quelle parti che vedete che sono buie, sono state inondate da più di 5 metri d'acqua di mare da un uragano. Questo uragano ha anche distrutto le pompe che collegano la città alle pipeline da Houston che le alimentano di carburante. Senza carburante a New York non funzionano le ambulanze, non si riparano le infrastrutture, non si scaldano le case. Otto giorni la città ci ha messo per capire che l'uragano aveva distrutto le pompe che la collegavano a Houston. Otto giorni durante i quali questa città di 20 milioni era senza carburante. Vabbè, non sono anni, ma otto giorni. Poi nel 2020, non vi devo ricordare cosa è successo, quanto tempo ci hanno messo gli ospedali per ottenere scorte d'emergenza, mesi a volte, durante la pandemia, quando i loro fornitori chiaramente non erano più disponibili. Com'è possibile che oggigiorno ci vogliono settimane o un mese per capire di dove vengono i prodotti con tutti i nostri mezzi tecnologici ipersofisticati? Allora mi sono veramente interessato a questo problema. Cosa rende le supply chain così opache? Nel 2010 stavo facendo ricerca in India e sono andato a intervistare dei produttori di cotone, produttori che contavano sul cotone, sulla vendita annuale di cotone per la loro vita. E più volte vendevano tutto al primo commerciante che passava. Perché? Perché non sapevano se ce ne sarebbe passato un altro o se il secondo avrebbe dato un miglior prezzo. Non sapendo questo, vendevano tutto subito, più presto possibile. Erano completamente sconnessi dal commercio globale, non conoscevano i prezzi del mercato e non sapevano dove andavano a finire le loro merce. Quell'anno migliaia di produttori di cotone indiani hanno smesso di produrre cotone perché non ci guadagnavano abbastanza e sono andati a produrre altre cose. Il prezzo del cotone nel 2010 è raddoppiato, che ha reso l'industria intera del testile completamente instabile. Ecco cosa succede con queste mancanze di visibilità nelle supply chain. Allora io a quei tempi stavo facendo ricerca su nuovi media al MIT a Boston e mi sono chiesto se c'era modo con queste nuove tecnologie che riuscivano di connettere le supply chain e di renderle più trasparenti per poi risolvere non solo il problema delle interruzioni ma anche il problema di chi non si faceva pagare abbastanza, delle supply chain che non erano etiche. E così ho cominciato a lavorare con alcune grandi aziende per mappare le loro supply chain, per capire cosa mancava nel loro sistema di gestione. E quello che ho scoperto è abbastanza sconvolgente perché una supply chain moderna per una multinazionale comprende decine di migliaia di fornitori su 5, 10, 15 livelli diversi. Ognuno, compreso una multinazionale, conosce solo i suoi clienti diretti e i suoi fornitori diretti, qualche centinaia. nessuno aveva una visione globale della supply chain. E così è ovvio che se ci succedeva qualcosa 5 o 6 livelli indietro ci volevano giorni o settimane perché le notizie arrivino al mercato finale. Un'altra illustrazione della complessità. Questa è la supply chain del microfono dentro al vostro cellulare. Non del cellulare, del microfono. Il microfono dentro al vostro cellulare comprende 6 o 7 livelli di transazioni, 200 componenti diversi e questo solo nel microfono. Cioè pensate quanto è complesso il cellulare, quanto è complesso la supply chain dell'azienda che fornisce i cellulari o dell'industria intera, cioè quasi inimmaginabile. Per fortuna, per fortuna, in quel momento c'era anche nuove tecnologie che stavano uscendo che permettevano di gestire questo tipo di complessità. I social network. I social network collegano centinaia di milioni di persone. In tempo reale, persone che non si sarebbero mai conosciute senza questa tecnologia. Poi se ci pensate, la supply chain è un social network. C'è una rete di connessione, tranne che non è visibile, ma ci connette tutti. Anzi, è il social network più grande e più complesso del mondo intero. Così che lo vedo io. E così Source Map è nata. Cioè la mia start-up era l'applicazione della tecnologia dei social network alla problematica della supply chain, come rendere le supply chain trasparenti tramite la tecnologia e la logica dei social network. E ora vi racconto com'è stata realizzata. Nel 2013 sono usciti alcuni modelli climatici molto preoccupanti per l'industria del cioccolato e dunque molto preoccupanti per tutti noi. Questi modelli mostravano che la parte del mondo che produce la metà del cacao tra Costa d'Avorio e Ghana, la parte verde che vedete qui sulla carta, potenzialmente sarebbe sparita per via del cambiamento climatico. Vedete quanto verde c'è rimasto nel 2050? Così l'industria si è preoccupata. Uno dei più grandi produttori di cioccolato ci ha contattati per vedere se potevamo mettere in moto Source Map per creare questo social network per connettere produttori di cacao con brand globali. E così è partito. E come è funzionato? È funzionato che i nostri clienti, i loro acquisti, i buyer, in Europa e negli Stati Uniti hanno invitato i loro fornitori su Source Map. Questi sarebbero i grandi commercianti di cacao globale. E questi hanno invitato i loro fornitori, gli esportatori, nei paesi da dove viene il cacao, a registrarsi su Source Map. E questi hanno invitato le cooperative, le aziende più vicine ai produttori, a registrarsi. E così nel giro di poche settimane siamo riusciti a mappare la catena di approvisionamento di questa grande azienda di cioccolato per la prima volta, già qualcosa. Poi, gli impiegati di queste cooperative, di queste aziende in tutta la regione sono andati sui terreni fisicamente con la prima generazione di smartphone a raccogliere informazioni di base, non solo sulla produttività dei campi, ma anche sulle condizioni sociali. Perché in fondo c'era questa preoccupazione che se il cacao non andava più sarebbero andati a produrre altre cose. Però per capire un po', per avere un quadro intero sulle condizioni ambientali, sociali e di produttività dei campi, sono arrivati fino a mappare tutte le superfici che producevano cacao. Pensate che siamo arrivati fino ai villaggi, dentro ai villaggi, capire le scuole, l'infrastruttura, l'elettricità, le banche, medicina, proprio a ispezionare ogni cosa per capire se o no l'industria del cacao poteva contare sulla produzione di cacao per i decenni a venire. Cioè questo è stato, ha cambiato l'industria. Onestamente, perché dall'essere completamente nel buio e non capire le condizioni a questa connessione, poi pensate che non era che vedevano le condizioni da alcuni campi, da alcune aziende agricole, le vedevano su centinaia di migliaia di aziende agricole diverse su tutto il territorio in tempo reale. Sconvolgente. Poi hanno scoperto tante cose e ci lavorano ancora. Questo ponte che è stato creato, tra l'altro, hanno viaggiato migliaia di chilometri, hanno attraversato le divisioni più fondamentali, socio-economiche, culturali, tecnologiche, del mondo. Così, su una piattaforma. Ora, oggi in SourceMap lavoriamo con, come avete sentito, con i più grandi gruppi, le più grandi aziende del mondo. Non solo nell'alimentare, ma anche nella medicina, nell'abbigliamento, nel lusso, automobili, elettronica. ci sono milioni di fornitori oggi che usano la stessa piattaforma per scambiare dati e per rendere le supply chain più trasparenti, più etiche. Ma non è sempre stato facile. È vero che alcuni attori dentro le supply chain tragano un certo beneficio dal fatto che le supply chain rimangano opache. Vi racconto un'altra storia. nel 19, quando il governo brasiliano addirittura incoraggiava la deforestazione per aprire nuovi terreni, per allevamenti, per la pelle soprattutto. E uno dei nostri clienti, un gran produttore di scarpe, ha chiesto di usare SourceMap per mappare il cuoio fino alle origini, per essere sicuri di non essere coinvolti in questa deforestazione. E così, come nel cacao, i produttori hanno invitato le fabbriche di scarpe che si sono registrate su SourceMap, le fabbriche hanno invitato le concerie che si sono registrate, le concerie hanno invitato i macelli, i macelli hanno invitato gli allevamenti. E così, nel giro di poche settimane, abbiamo mappato l'industria globale del cuoio, una buona parte dell'industria globale del cuoio. Adesso zoomiamo, perché la tecnologia aveva fatto dei passi enormi, dei bondi da gigante nel frattempo e avevamo accesso anche a immagini satellitari che ci mostravano la deforestazione e gli incendi in tempo reale. E così abbiamo potuto sovrapporre la supply chain dei nostri clienti con queste immagini degli incendi, che vedete le zone rosse sulla mappa. E così i nostri clienti hanno scoperto che infatti la loro supply chain si stava muovendo verso nord, in Amazonia, verso nord dove stavano bruciando attivamente, in tempo reale, le foreste e hanno fatto la cosa più radicale che si possa fare, hanno annunciato un boicottaggio del cuoio brasiliano, finché i fornitori non possano mostrare che era stato prodotto senza deforestazione. l'hanno annunciato la mattina del 29 di agosto 2019 entro poche ore il governo brasiliano è stato costretto a mettere una moratoria sugli incendi. La trasparenza delle supply chain sta riscrivendo le leggi della globalizzazione del commercio globale. Adesso vedrete quest'anno l'anno prossimo tutta una nuova generazione di leggi che richiedono, che esigono la contabilità come si direbbe in inglese ma la presa in coscienza delle pratiche della supply chain intera dalla parte di tutti i grandi gruppi europei e nordamericani su tutti questi temi sociali e ambientali. Perché vuol dire che i brand non vogliono comprare cose prodotte in condizioni terribili perché sanno che non ci possono contare sopra ma anche i governi non lo vogliono perché sono in concorrenza con paesi dove i standard sono completamente diversi allora vogliono che gli standard siano gli stessi e tutte queste leggi sono possibili solo grazie a questa nuova tecnologia della mappatura delle supply chain. Ora per finire c'è un'ultima storia ma Sorsenap l'ho creata per rendere le supply chain più trasparenti perché siano più etiche non per leggi non per rischi da prevenire perché fondamentalmente la trasparenza deve creare una nuova relazione di fiducia tra produttori industria industria e consumatori. Nel 2021 un grande produttore di orologi di lusso ha cominciato a mappare la sua supply chain con Sorsenap per capire le condizioni di lavoro ad ogni fase ad ogni livello della supply chain fino alle miniere d'oro e così una volta mappata verificata tutta la supply chain nel 2022 hanno lanciato il primo orologio di lusso completamente tracciabile al pubblico con le informazioni aperte a tutti per verificare le condizioni in cui sono stati prodotti gli orologi l'orologio che si è venduto ogni esemplare in poche settimane. E così se vi lascio una cosa una lezione qui è che io sono partito pensando che c'era del bene e del male nelle supply chain ma invece se Sorsenap esiste è che tutti vogliono sapere le condizioni in cui sono stati i prodotti. La cosa che mi affascina ancora è che la globalizzazione c'è da sempre ma è solo adesso che siamo in grado di capirla di misurarla non mancava la volontà mancavano i dati mancavano gli strumenti e adesso che possiamo realmente mappare le supply chain vuol dire che possiamo coinvolgere tutti gli attori non solo nella supply chain ma nell'innovazione in questa economia della conoscenza dalla cui beneficiamo tutti cioè è il primo momento in quale possiamo veramente sfruttare il potenziale innovativo di tutti quelli che partecipano nella nostra vita anche a qualsiasi la distanza e questa è una bellissima cosa cioè la mappatura delle supply chain rivela la nostra connessione umana a tutte le persone nel mondo che vuol dire che finalmente possiamo coinvolgere tutti noi nell'innovare non siamo in competizione per risorse limitate le risorse le stiamo creando insieme bisogna coinvolgere più persone nella creazione delle risorse e così questa trasparenza questa connessione umana è quella che permetterà di avere veramente un'economia globale etica e sostenibile grazie